Ho tentato ma hanno resistito al mio assalto. Un albergo, erano le 5 del mattino a quel punto, che era non brutto, un orribile caservone di semento armato dove era come entrare in un loculo per morire. Allora io ho arrivato alle 5.10 e ho detto guardi non dormiamo qua. Diceva come? Sono stanco. Dico no, guardi, andiamo a Guardi Alfiera. Abbiamo fatto 37 chilometri verso il Morise. A che ore erano a quel punto? Le 5 e mezza. Intorno a noi ancora qualche pala eolica, altra follia di tempi. Le sono perenni, soprattutto quando passa lei. Nel Morise se ne sono per dare luce a tutta Italia, perché il Morise l'hanno scelto perché era piccolo e povero. A Guardi Alfiera ci sono le terre del sacramento, che è un bellissimo luogo che prende il nome dal romanzo di Iovine. Il piccolo borgo era pieno di poesia, ma non c'era una cosa che non fosse a posto. Colori sbagliati, infissi di alluminio anodizzato, tetti sbagliati. Cioè l'Italia è appestata dall'ignoranza. Termoli, che è bella nel piccolo centro, è circondata, non verso il mare, ma verso l'entroterra, di condomini la cui bruttezza è contro ogni possibilità di resistenza umana. Perché da Palladio, da Bramante, da Brunelleschi siamo arrivati fino a questo orrore? Se un giovane a scuola non intende Palladio, la Basilica di Palladio, penserà che è come un condominio. Palladio, da Brunelleschi di Palladio,